Aspettate che non c'è il timer ancora, un attimo Marco Ok Marco quando vuoi Partito, benissimo, andato in linea, vedete come spinge anche lui C'è, non è rinforzato, è tutto sorpreso Benissimo, non ho visto, non è rinforzato Benissimo, non ho visto bene, non è rinforzato Benissimo, non ho visto bene Siamo dai cerdini 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 Siamo dai cerdini